Buonasera a tutti quanti, mi presento Raffaella Di Napoli, coordino il programma di attività della Task Force Leader della Rete Rurale Nazionale, la Task Force prosegue quella che è stata anche l'attività della Rete Leader nelle passate fasi di programmazione, i GAL probabilmente conoscono già la Rete e chiaramente anche alcuni di me e alcuni dei miei colleghi. Prima di cominciare vorrei intanto ringraziare prima di tutto la Regione per averci invitato in questa occasione perché per noi è sempre importante incontrarci sia a livello regionale ma anche direttamente con i GAL e poterci confrontare con chi quotidianamente poi si cimenta nell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale. Il tema che così era stato discusso, un po' è concordato, era un po' un intervento così ponte fra quello che è stato l'intervento di Valentina e quello che farà successivamente Dario perché Valentina ha aperto una finestra sul futuro ma anche citando alcune attività che sono attualmente in corso che comunque hanno già delle implicazioni su quella che è l'attuazione di leader adesso e Dario successivamente vi mostrerà come poi proprio in questa fase di programmazione ci troviamo di fronte a diversi modelli di leader che hanno anche diversi impatti a livello territoriale. Quindi nel pensare a cosa avrei dovuto dire oggi il mio tema era leader come strumento per promuovere lo sviluppo territoriale in realtà la prima domanda che mi è venuta era se ancora aveva senso promuovere e proseguire con il leader ma anche in questa fase di programmazione che cosa è successo? Noi abbiamo vissuto in tutte le regioni, non è quindi una così peculiarità della regione e Marche, è una difficoltà diffusa nell'applicare il metodo all'interno dei programmi di sviluppo rurale e questo spesso ha portato un po' a dimenticarsi anche quello che era il senso, il significato di una strategia di sviluppo locale all'interno di una politica più generale e anche perché si era pensato ad una politica ora non vi preoccupate, non voglio farvi la storia delle politiche di sviluppo rurale ma solamente ricordare che l'ideazione del metodo leader in realtà ha una lunghissima storia ed era nato, insomma noi parliamo addirittura alla fine degli anni 60, dei primi anni 70 come idea e poi ci sono state una serie di sperimentazioni perché ci si trovava di fronte alla necessità di risolvere un problema molto grosso era quella di forti squilibri regionali ma di forti squilibri anche a livello territoriale si era diffuso anche un nuovo modo di vedere e ci si era anche resi conto dell'importanza di considerare le aree rurali e qui non dico solo il settore agricolo come un tutto io qui faccio riferimento a una definizione perché è importante dal punto di vista metodologico quando vogliamo rinquadrare una strategia di sviluppo rurale in un contesto di politica più ampia cioè che il risultato che poteva dare all'attuazione di progetti di tipo integrato, multisutteriale che vertevano su più settori ma soprattutto che mettevano in rete più operatori davano la possibilità di ottenere risultati maggiori ma se non altri diversi e questo è un sottolineo come questa parola rispetto ad alcune azioni e misure di politica che magari erano più di carattere puntuale o settoriale o specifiche e che quindi potevano contribuire forte a generare dei meccanismi virtuosi a livello territoriale ed è da qui che poi piano piano, ora chiaramente salto un po' tutta quella che è la storia del dibattito che c'è stato sia scientifico ma anche attuativo nella definizione delle nuove politiche chiaramente si introducono nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dei principi molto forti, io lo chiamo l'etica dello sviluppo rurale ma in particolare l'etica di leader ma che è importante alcuni di questi principi ed è un principio fondamentale di leader è quello dell'equità, qui cito alcune cose oltre che sostenibilità, responsabilità degli attori locali nella gestione delle proprie risorse partecipazione, interdipendenza ecco io in quella parola equità riconduco anche molto il senso di quello che può essere una strategia di sviluppo locale che trova nel leader chiaramente una traduzione operativa sicuramente nelle modalità di elaborazione e gestione dei piani di sviluppo locale quindi attraverso l'attivazione dei partenariati nella caratteristica delle azioni sarà per chi conosce il leader fin dalla sua nascita c'è un elemento che era importante che ancora ci portiamo dietro ma forse non più esplicitato che era quello della ricaduta collettiva delle azioni di leader aveva un senso molto forte e ha introdotto fortissime innovazioni nelle politiche di sviluppo ma era importante perché questo portava alla generazione di interesse pubblico ma anche alla creazione poi di beni pubblici attraverso queste politiche ora da qui ricordo anche velocemente quelle che erano le specificità del leader questa piccola parte introduttiva mi servirà poi per raccontarvi meglio che cosa sta effettivamente accadendo adesso anche questi nella compulsività di questi momenti dove siamo spesso portati a dover risolvere dei problemi veramente contingenti legati alla gestione proprio procedurale magari dei PSL ma a monte magari dei programmi di sviluppo rurale quindi nella definizione di tutti gli leader procedurali magari ci dimentichiamo alcuni di quegli elementi che sono fondamentali per una piena attuazione del metodo leader che qui li richiamo una volta inizialmente erano sette ora sono diventati otto ed evidenzio in particolare il decentramento amministrativo finanziario è implicito in altri principi come quello delle GAL la creazione di un GAL chiaramente di un soggetto pubblico privato già di per sé implica un processo di decentramento nell'attuazione delle politiche così come magari l'integrazione e così via però mai come in questa fase si è reso ancora più forte la necessità di poi sottolineare e evidenziare l'importanza di decentrare e rafforzare magari questa azione di delega verso gli attori locali nella gestione soprattutto quando ci si trova in un contesto regolativo molto complesso come quello delle politiche di sviluppo rurale quindi da sette elementi specifici di leader diciamo ne aggiungiamo un altro che diventa un po' l'aspetto operativo la traduzione anche operativa di leader velocemente che cosa è successo insomma individuato il metodo noi siamo passati dal leader 1 fino a questo fino all'attuale fase in una lunga sequela di sperimentazioni dove i principi di massima rimanevano gli stessi ma nelle diverse fasi hanno trovato diverse modalità di applicazioni tralasciando un po' quello che è successo con leader 1 ma forse qualcuno di voi si ricorderà il leader 2 che era cofinanziato da tutti e tre i fondi e questo aveva avuto una valenza molto importante perché forse è stata una delle esperienze dove veramente si è fatta integrazione reale anche con altri fondi dove forse e questo è stato un elemento molto importante già quando si è passati al leader più uno di questi aspetti non perché ci si sia ridotti a limitare il finanziamento di leader a un solo fondo ma perché già era per molti difficile riuscire a muoversi all'interno dei confini di quello che era il fondo per lo sviluppo rurale questo ha portato già spesso a rinchiudere il leader verso alcune tipologie di azioni pur essendoci la possibilità per esempio di attivare delle strategie di sviluppo locale che andassero al di là di quelle che erano le azioni previste all'interno del singolo fondo questa opportunità teoricamente c'era anche in questa fase di programmazione cioè il senso della strategia di sviluppo locale nell'ambito della politica rurale serviva non solo e tanto per attuare quelle che erano le misure ordinarie dello sviluppo rurale ma in alcuni contesti che avevano determinate caratteristiche e queste erano chiaramente specificità diciamo regionali dovevano contribuire il più possibile a cercare di innescare processi di sviluppo diciamo così strategici continuare a sperimentare azioni di sviluppo che andassero al di là di quello che era il menu delle azioni possibili quindi dare quel valore aggiunto che poi spesso richiamiamo ma come è stato anche sottolineato dalla commissione cioè di trovare nuovi meccanismi che permettessero effettivamente di risolvere problemi dello sviluppo rurale attraverso soluzioni innovative queste parole che nell'attuale programmazione sembrano un po' andate in disuso in realtà come enunciazioni di principio c'erano tutte nel regolamento che cosa è successo? qualche cosa sicuramente è successo perché in tutte le regioni come vi ho detto all'inizio malgrado la consapevolezza che il leader abbia contribuito a conseguire una moltiplicità di risultati positivi perché se no né l'Unione Europea ma tanto meno probabilmente gli stati membri ma neanche le regioni avrebbero subito l'applicazione di un metodo si riconosce che il leader ha sicuramente contribuito a conseguire alcuni degli obiettivi che qui vi annuncio e che qui vi elenco alcune regioni addirittura in queste fasi di programmazione ne hanno riconosciute come la validità fermo restando che in tutte le regioni è aumentata la dotazione delle risorse finanziarie alcune proprio l'hanno ritenuto come un elemento strategico per promuovere lo sviluppo regionale ci sono dei casi eclatanti tipo la Puglia che è forse il caso più forte di leader perché da quasi il 20% delle risorse del PSR c'è una dotazione finanziaria molto alta gli altri più o meno si attestano una media che supera di solito il 5% che era la quota definita a livello comunitario poi insomma tutti quanti assegnano maggiori risorse quindi c'era il riconoscimento di una validità del metodo che cosa succede? nell'inserimento del PSR c'è stato sicuramente in fase di programmazione un momento di panico che è riconducibile le motivazioni per cui è successo sono varie però sicuramente malgrado il metodo fosse diffuso ancora era poco di conosciuto il fatto probabilmente di essere stata un'iniziativa comunitaria quindi forse ancora in realtà poco integrato con chi a livello regionale ma non solo perché con chi gestiva la politica ordinale di sviluppo rurale probabilmente qualche problema l'ha creato c'è stato proprio bisogno in alcune regioni veramente di riorganizzarsi di riprepararsi di attivare nuovi meccanismi di gestione si sono aggiunte delle complessità procedurali specifiche dei leader così come la priorità dei soggetti che sono coinvolti anche questo in fase per esempio di predisposizione dei programmi ma anche a livello della stessa commissione come vi farò vedere c'è stato un grosso lavoro forse non si era valutato ancora attettamente quello che era il ruolo del GAL che cosa effettivamente era chiamato a fare questo soggetto la conclusione è stata in diverse regioni ma poi Dario vi illustrerà meglio perché come ho detto in Italia così come in Europa abbiamo diversi modelli di leader che spesso molti hanno piegato un pochino il metodo leader al PSR non sono pochi i casi in cui ci troviamo tanti piccoli PSR per fortuna non da per tutto perché questo è un elemento importante insomma ci sono diversi casi dove il leader mantiene tutti quegli elementi che probabilmente faranno sì che sia applicato con tutte le sue caratteristiche già solo per darvi un esempio a livello europeo noi ci troviamo già di massima e questa è una semplificazione a tre modelli diversi che assegnano ai GAL ruoli completamente diversi ora qui non ne dirò molto perché poi c'è Dario che espliciterà meglio questa distensione però ci troviamo da una posizione che va dal GAL prossimo a quello che era l'obiettivo con cui era nato quello di essere un'agenzia di sviluppo locale a un GAL che invece ha diciamo quasi un compito più esecutivo così di attuazione a livello locale di una parte delle misure del PSR quindi dove un pochino viene snaturato già questa difformità esemplificativa ma è stato interessante perché il lavoro che abbiamo condotto come task force leader coordinando un gruppo a livello europeo attraverso anche il leader su comitì che sarebbe il nostro alter ego a livello europeo ci ha permesso di analizzare in maniera puntuale tutti i meccanismi di funzionamento di leader e di andare a capire effettivamente dove dal punto di vista procedurale l'attribuzione di alcuni compiti e funzioni per esempio ai GAL o la possibilità per il GAL di fare alcune cose ad esempio scegliere le misure e così via da attivare all'interno dei PSL incidesse come incidesse sulla applicazione del metodo se effettivamente questo permetteva di parlare di strategia di sviluppo locale o meno cambia quindi conseguentemente con questa applicazione anche il ruolo della strategia di sviluppo locale abbiamo realtà fortemente diversificate io qui cito nel box verde una frase delle nuove linee guida da poco riviste dal comitato per lo sviluppo rurale che dice la possibilità di finanziare progetti sperimentali innovativi dipende molto dal modo della misura in cui i PSR si avvalgono della possibilità del regolamento del consiglio per finanziare progetti al di fuori del menu standard di misure degli assi 1, 2 e 3 quella piccola tabellina che vedete lì vi fa vedere come solamente il numero è la frequenza di regioni che hanno deciso di applicare misure specifiche per leader come vedete già questa possibilità ha fatto sì che non tutte i GAL non in tutte le regioni sia stato possibile individuare delle strategie di sviluppo locale che fossero effettivamente calate e costruite sulle specificità di territoriali quando invece per alcuni territori assolutamente questa è una funzione di sviluppo strategica qui va bene era un piccolo confronto sul passaggio delle misure ma per dire serviva un po' questo anche evidenziare quanta autonomia avevano avuto i GAL nelle diverse regioni dalla fase di programmazione del PSR alla fase poi di definizione del PSL di scegliere effettivamente su quale asso o meno puntare come potete vedere ad occhio non ci sono in realtà grosse differenze a parte ad alcuni casi ma questo ci tenevo a farlo a evidenziarlo solamente per evidenziare e come vi dirò dopo che la possibilità per un GAL di poter scegliere la propria strategia quindi per un partenariato locale di individuare le misure più adeguate chiaramente è fondamentale per far sì che sia per tutto realizzata effettivamente una strategia di sviluppo locale ma anche attivata un processo di innovazione è chiaro che questo cambiamento di ruolo del GAL ma anche di ruolo della strategia di sviluppo locale ha degli effetti sugli impatti di leader e sui risultati che il leader stesso può dare è una riflessione che dobbiamo è un aspetto che dobbiamo tenere a mente perché questo dipende da quello che ogni regione in questo caso si aspetta da leader oltre che una strategia chiaramente nazionale è una riflessione che è stata fatta e che viene portata avanti anche a livello comunitario perché chiaramente la possibilità o meno di ottenere determinati risultati fra i quali per esempio di migliorare la governance che è uno degli obiettivi di leader è possibile farlo nella misura in cui il GAL effettivamente ha la necessaria autonomia diciamo decisionale funzionale gestionale per contribuire a migliorare dei processi di governance quindi dei processi a livello territoriale così come se parliamo di innovazione in termini di strategie e misure se il GAL può scegliere fra due o tre misure diciamo che di innovazione se ne può fare ben poca e quindi questo è per portare alcuni esempi ultimi due slide e poi concludo perché da una parte come ho detto un po' questo mi serve faccio un po' da ponte fra Valentina e Dario per il futuro mi ricollego a quello che diceva Valentina noi stiamo già studiando a livello nazionale ma anche con le regioni con diversi GAL quelle che sono effettivamente le implicazioni dell'attuazione del metodo leader le cose che stanno emergendo è sicuramente quello di rafforzare il carattere innovativo della strategia di sviluppo locale ma non solo per il futuro ma anche in questa fase il riferimento che ha fatto Valentina alle linee guida evidenzia proprio questo rafforzare il ruolo del GAL come agenzia di sviluppo locale sia nelle linee nuove linee guida ma anche nelle posizioni che stanno emergendo nei diversi stati membri è evidente che il GAL deve poter in qualche modo effettivamente agire come agenzia di sviluppo a livello territoriale e quindi deve poter mettere in campo tutti quelli che sono gli strumenti di animazione io quando parlo di strumenti di animazione mi riferisco ad un altro aspetto di leader carattere immateriale cosa che in parte si è persa ma anche la possibilità di fare tutta una serie di attività dalle azioni di sistema e così via come per il futuro sicuramente emerge la necessità sia in questa che nella nuova fase di dare una maggiore autonomia decisionale e funzionale ai GAL e cercare il più possibile di semplificare quello che è l'approccio procedurale procedure per una misura del PSR chiaramente poco si adattano per delle misure di leader spesso che prevedono piccoli interventi che spesso sono vicini a delle esigenze specifiche a livello territoriale tutto questo era per raccontarvi come le strategie di sviluppo locale chiaramente svolgono e soprattutto il leader un ruolo importante e significativo se ci sono determinate condizioni alcune delle quali come puoi far vedere Dario sono fortemente condizionate dal quadro regolativo non solo ma anche da quella che poi è la capacità di risposta del Galle stesso di fronte a questo nuovo aspetto il fatto che il leader sia dentro un programma di sviluppo rurale una politica più ampia è sicuramente un elemento di successo cioè significa che le politiche di sviluppo rurale stanno sempre diventando più flessibili e tali da comprendere che ci sono delle specificità e dei territori che possono affrontare alcune questioni solamente se agiscono attraverso l'attuazione di un metodo tipo quello leader che prevede la definizione di strategie specifiche per quel contesto vi concludo solo brevemente solo per farvi vedere com'è adesso la nuova rete perché questo mi sembra un accenno doveroso la rete rurale per chi conosceva la vecchia rete leader prima era rete leader cioè la rete degli attori di leader e punto adesso siamo come rete leader un gruppo diciamo continuiamo a essere rete leader ma siamo un gruppo di lavoro una task force all'interno di un contenitore molto più ampio è un progetto molto grosso voluto dal ministero che ha organizzato non solo una rete leader ma sono diverse task force di tipo tematico anche gruppi di lavoro e questa è una grandissima opportunità perché già gli attori di leader si trovano in relazione in un contesto molto più ampio e su alcuni aspetti specifici come monitoraggio volutazione e cooperazione sono stati creati dei gruppi di lavoro ad hoc vi rimando un po' questi sono i temi su cui ci muoveremo soprattutto quest'anno che è appunto la capacità del galle perché chiaramente per il galle ci sono nuovi meccanismi di gestione e qui c'è troppo da così lavorare anche insieme perché insomma le implicazioni sono non di poco conto ma anche un secondo tema su cui stiamo lavorando molto è quella dell'analisi del valore aggiunto di leader questa era una sollecitazione che veniva dalla Corte dei Conti europea ma non solo perché è anche un modo per cercare di sempre di più rafforzare il ruolo delle strategie di sviluppo locale e infine un'azione fortissima la stiamo facendo sul futuro di leader e Valentina ha citato il prossimo leader su commit all'ordine del giorno c'è anche la discussione di una posizione comune che esca da tutti gli attori di leader come task force abbiamo già attivato e poi comunque vi faremo avere proprio la prossima settimana una comunicazione specifica un forum di discussione preparato alcuni documenti che sono il risultato di diversi analisi già condotte alcune delle quali ve le presenterà Dario questa è solo una paroramica dei nostri strumenti ma vi rimando soprattutto al nostro portale dove trovate sia le pubblicazioni che ha citato Valentina quelle che citerà Dario più avanti ma anche la possibilità di accedere ad una serie di servizi che noi mettiamo già per esempio online come il leader book questa piattaforma di condivisione e di una community avanzata a disposizione dei galli dove abbiamo aperto anche questi forum e discussioni sul futuro uno sportello giuridico amministrativo e finanziario che comunque si è rivelato molto utile in questo giorno più tutta una serie di altre iniziative che sono quelle classiche da rete dall'organizzazione di stati visit a seminari più pubblicazioni di approfondimento sia di tipo divulgativo ma anche di tipo tecnico e tematico con questo ho concluso e vi ringrazio scusate Dario mi ricordava solo segnalarvi una cosa come rete adesso siamo organizzati in termini generali anche con una postazione a livello regionale questo ci sembra dove è Federica lei in particolare è rappresentante della rete rurale nazionale qui nelle regioni Marche e a breve sarete anche contattati da lei per un lavoro che stiamo facendo sulle buone pratiche di leader e le azioni di leader ecco ci tenevo a presentarla perché sicuramente un punto di contatto è un riferimento insomma importante anche per noi come task force grazie a tutti